27 marzo I cieli raccontano la gloria di Dio e il filmamento annuncia l'opera delle sue mani. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. Salmo 19, 1, 7 La testimonianza di Dio Chi di noi non ha mai soffermato lo sguardo su di un bel paesaggio? La bellezza della natura è talmente perfetta da togliere il fiato. Gli azzurri mari, i colorati fiori, le maestose montagne, gli immobili laghi, le lucenti stelle, il caldo sole sono la testimonianza della sapienza, della potenza e dell'amore di Dio. Il creato ha un linguaggio silenzioso ma molto eloquente. È un dono di Dio per gli uomini affinché se ne servano e si ricordino del loro creatore. Abbiamo anche un'altra testimonianza, un'eredità che il Signore ha lasciato agli uomini e che resiste nei secoli nonostante le avversità. È la parola di Dio. Essa è perfetta, santa, giusta, buona. È una parola sempre attuale che ammaestra, consola, incoraggia, purifica, salva. Ascuotiamo quello che il Signore ha da dirci ancora oggi e non induriamo il cuore. Egli è una parola adatta per ciascuno di noi. Facciamo la nostra e il Signore ci farà per sempre Suoi. Facciamo la nostra e il Signore ci farà per sempre.